Cammini Rienzo, allenatore del campo Bassognores, è arrivata una vittoria 2-1 sull'Aquila, anche se non contava la classifica, però comunque fa sempre morale. Sì, vabbè, dovevamo riscattarci dalla partita persa a San Benedetto, abbiamo dato spazio a quei ragazzi che giocano di meno per mettere minuti nelle gambe, siamo stati bravi e poi siamo stati disattenti su una ripartenza per fare oltretutto rigore, però va bene così, ci godiamo questa vittoria, allora pensiamo a mercoledì alla macera tesa. Primo tempo possiamo dire perfetto, non avete corso rischi, secondo tempo non siete entrati in campo colpito giusto, loro non hanno approfittato nei primi 20 minuti, poi alla fine avete preso il controllo del match e avete vinto la partita facilmente. Sì, vabbè, siamo stati forse anche mentalmente a far capire a volte ai ragazzi che queste partite comunque sono importanti perché vanno prese sempre con la mentalità giusta, perché loro giustamente non fanno classifica, non fanno normale che ci sia quel calo psicologico da parte dei ragazzi, però va bene così. Venite da un tour de force, vi aspettano ancora partite ravvicinate, venivate dalla scomita di San Benetto come hai detto prima tu, adesso vittoria contro l'Aquila, mercoledì si va macerata, partita che lo stesso non vale per la classifica. Sì, sì, vedremo ancora qualche altro ragazzo, proveremo qualche altra cosa, qualche altro modulo in modo ci serve a noi per esperimento, cercando sempre di guardare un pochino al risultato e soprattutto alla crescita dei ragazzi e poi pensiamo alla partita di sabato con Giuliano. Giuseppe Ronzitti, difensore del campo basso di Norris, vittoria importante contro l'Aquila. Sì, sì, è stata una vittoria molto importante, specialmente per me che sono entrato una seconda volta in campo per giocare una partita vincente. Anche se non contava la classifica, queste partite invece sono molto importanti per voi per mettervi in mostra verso il mister e farvi giocare più minuti nelle partite importanti. Sì, sì, infatti questa partita è stata molto importante per me, per dimostrare quanto uno vale, quando una persona, cioè il sottoscritto può valere. Tu vieni dalla scuola calcio San Pietro e Paolo, una delle scuole calcio più importanti del Molise. Sì, sì, il San Pietro e Paolo è una bella società, ci sono cresciuto per tre anni, è stato molto bellissimo come esperienza. Adesso venivate da un tour de force con molte partite ravvicinate e adesso mercoledì si rigioca contro Macerata per poi preparare meglio la partita contro Giuliano. Sì, sì, daremo pure a Macerata tutto per tutto perché dovremmo, cioè è una partita per crescere, ci servirà molto.